buonasera e benvenuti a una lettura al giorno oggi è santa caterina 29 aprile e quindi non possono ricordare la santa patrona d'italia con patrona d'europa e seconda donna dottore della chiesa quindi insomma per essere una piccola donna del 300 è veramente arrivata al massimo cui poteva arrivare una donna di quell'epoca allora inizio chiaramente come sempre il mercoledì è la giornata delle edizioni di luca betti e inizio con una poesia di daniela pinassi che non ha niente a vedere con santa caterina poi vi leggerò una poesia di francesco vannoni che ho trovato stamani nella sua pagina facebook chi conosce francesco sa che ogni giorno così come io con una lettura al giorno lui ci delizia con i suoi sonetti in questo tempo di covid 19 un pochino meno però insomma è sempre molto produttivo e poi vediamo perché ho altri due libri può vorrei fare anche un racconto insomma vorrei fare un sacco di cose vediamo vediamo che cosa c'entra allora iniziamo con la poesia di la pinassi attesa basterebbe un bacio a sciogliere il dolore la rabbia e la paura un bacio atteso ogni sera al comparire delle prime stelle perso nel tempo dei ricordi sospeso nell'aria come un respiro lontano ma non perduto torno per quel bacio atteso a parlare senza pudore delle cose d'amore bella sei daniela bella brava allora daniela che ho conosciuto dal punto di vista letterario grazie a una lettura al giorno e a sabrina che ci ha presentate allora francesco vannoni alla stella che in siena spuntò festeggiati così caterina mia senti ti dico mi fa male al cuore anche scrive un verso è una fatia nel mezzo a tutto questo dolore per colpa di questa atroce pandemia che di vita ribalta ogni valore ci fa capire per esempio quale sia il senso dell'affetti e dell'amore di quanto insomma nella sofferenza conti per tutti noi e nostri cari semplice e preziosa la presenza e in un momento certo della storia o degli istanti tragici un son rari si chiede protezione dalla la tua gloria perché la tua potente intercessione al cospetto del tuo sposo che è gesù alla speranza possa d'accagione per tutti noi nel cammino di qua giù quest'anno poi per questa situazione la festa titolare non si può più non si fa più niente giro e niente processione ma ogni volta che io guardo all'insù e il pensiero vola in fonte branda specie ora che poi non ci posso andare e il passo già incerto quasi sbanda sento il tuo abbraccio che ammanta come una luce che nell'oscurità dice coraggio sono la vostra santa davanti a te tutte le contrade e oltre ogni colore di bandiera contro questo nemico che invade la libertà di siena tutta intera in ogni porta e in tutte le strade nel viver nostro mattina e sera di certo nel silenzio pure accade di cercati celeste messaggera se dunque la vita alle soleggi e il creatore su tutti un disegno l'italia e l'europa te proteggi tonorano padrona sai nina però quell'occhi santi dall'eterno regno si posino qui ove la stella spuntò grazie francesco grazie e poi un'altra un'altra poesia che ho trovato sempre nella nella pagina facebook di francesco vannoni che si intitola questi momenti e che era all'inizio del delle restrizioni com'è difficile c'è ti fa poesia si pensa si ragiona ma il cuore sembra risponde che io per parte mia so sopraffatto da tanto dolore anch'io mi unisco perché forte ci sia il grazie di tutti e ogni onore a chi lotta contro questa epidemia a giornate intere e senza ore fa un sorriso a chi è guarito e poi un appello a chi è sano ci fosse sempre chi non ha capito in casa riscoprite quei valori che si è smarrito tutti piano piano persi anche per lo sta sempre fuori si può scrivere disegna oppure legge e farsi raccontare una storia antica cerca di cultura un po di schegge o fa qualcosa al forno basta sia e a chi dice un riesco a regge rispondo così allora per cortesia sta in casa anche solo a proteggere te i tuoi affetti e le tue genie io senti che a casa ci starei ma mi hanno detto che e per il tuo lavoro di bancario devi sapere che te sei da considerare proprio necessario e allora come dicono loro io volo al lavoro al mio orario e quando finisce ogni giornata il primo pensiero che un mente è di di anche oggi andata pensando invece a tanta gente che rischia di morire dimenticata tra quei pensieri che nessuno sente senza poi neanche essere confortata perché il virus non lo consente stateci in casa stateci davvero e se potete di una preghiera serve a tutti al mondo intero a gesù che regge il regno santo senza dirgli perché in che maniera diciamoli solo stacci accanto e quindi ora che siamo quasi arrivati insomma verso la fine delle restrizioni più più grandi e quindi bella quella questa la va scritta proprio proprio all'inizio allora visto che ho ancora un po di tempo vorrei leggervi un infinito dei leopardi visto alla senese da francesco burroni sempre in un libro di edizioni di lucabetti che è o che versi fai l'infinito di leopardi tradotto in senese quanto mi garba a me questa collina e sto cespuglio che tutta una parte dell'orizzonte in fondo un fa vedere ma stasse idea guarda a sterminati spiazzi di là di quella e esagerati silenzi e una calma bestiale a me mi viene in mente che manco poco il cuore un mi sbarella e appena al vento sento strusciato tra queste frasche io tra quel popò di silenzio e la mi voce fo il paragone e immagino l'eterno e le vecchie stagioni e questa e questa e questa e questa qui quest'ora è viva e sono e che fa lei sicché in questa enormità s'affoga il mio pensiero e mi garba perde il capo in questo mare perché in senese si può tradurre tutto quello che noi vogliamo e sempre di francesco burroni c'è un dialogo che è veramente sono lui e lei e allora penso a chi dopo tutti questi due mesi senza vedersi si ritroveranno assolutamente non non c'è niente di autobiografico e questa poesia si intitola sono perplesso incomincia lui sono perplesso anch'io non capisco che c'è da capire ma ecco forse io forse tu non volevo dire questo e cioè 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 ecco vedi volevo dire che nel caso nel caso cosa nel caso che che lo so di preciso forse forse ma non so può anche essere che che ma so perplesso anch'io ecco io spero che un ritrovarsi tra due che non si vedono da due mesi sia sicuramente un po' più facile e sempre un'altra poesia di sempre di francesco burroni che io ci provo e parla di uno che vede una e è lì che ci accoraggio io ci provo le lancio una poesia da qua dietro la poesia cadrà nel mare e quando lei la vedrà arrivare penserà a un naufrago che aspetta la sua bella su un'isola deserta e così lei mi risponderà affidando la sua poesia al mare io non saprò mai quello che mi ha scritto così le lancerò un'altra poesia e lei un'altra poesia io un'altra poesia è così per anni e anni questa è vera poesia poesia pura che va oltre l'apparente oggetto del desiderio che va oltre il banale raggiungimento del piacere concreto e materiale questa è poesia questa è arte e se invece ora andassi vicino a lei con una frase del tipo scusi ad accendere sicuramente sarebbe molto meglio e quindi vorrei terminare questa puntata di una lettura al giorno con un inizio di un racconto di Piero Cristofani che allora che lo ritrovo eh lo ritrovo assolutamente perché io perdo perdo veramente tutto perché è vero che è vero che è la serata di Luca Betti ma è anche vero che Luca Betti è uno molto attento agli scrittori ehm agli scrittori locali e quindi perché non Piero? Eh potrebbe essere anche che a un certo punto questi due si innamorano e Luca Betti eh chissà magari fa delle edizioni particolari sui racconti meravigliosi di Piero quindi vi lascio con un po' di curiosità questo questo racconto si intitola Una passeggiata nel bosco quando i pomeriggi autunnali si spengono lentamente in una gamma di colori tenui e le foglioline d'oro vivo piovono giù mosse dal vento mi prende il desiderio di fare lunghe passeggiate nei boschi che circondano la mia casa di campagna guardati da lontano quei boschi mi sono sempre apparsi verdi carichi di umori e fermenti quando poi invece mi ci sono addentrato tutto si è mostrato con puntualità morto e irrigidito più vecchio rispetto all'anno precedente e più vicino alla fine camminavo da solo lungo un sentiero di vecchi castanni e sentivo scricchiolare sotto i piedi l'erba ingiallita e legnosa vedevo un albero ancora uno e un altro impossibile poterli contare con lo sguardo puntato al suolo con in mano un paniere nell'altro un bastoncino leggero per appoggiarmi e spostare le foglie secche teso e allerta come un cacciatore andavo in cerca di funghi porcini con le narici ben dilatate cercavo di inalare l'odore umido oleoso denso e vagamente muffito che mi avrebbe segnalato la loro presenza il sentiero era affiancato da una macchia scura e selvaggia che dopo una curva a gomito si apriva in uno spazio di felci basse dentro il quale si poteva camminare senza inciampi occhieggiavo qua e là quando con grande stupore vidi ai piedi di un castagno schiantato da un fulmine un grosso paniere di vimini pressa poco come il mio vuoto e accanto buttata per terra una giacca di fustagno da cacciatore portento fenomeno astrale del vento maestrale lì accanto tra brandelli di verde brandelli di luce mi apparve un porcino con la sua cappella nera e soda lo miravo e lo rimiravo ma la presenza di quell'altro paniere della giubba di fustagno non mi rasserenava mi guardai intorno quattro quattro e con veloce movimento lo colsi e lo posi nel mio paniere chinato come ero tra le felci lo sguardo si posò su un altro porcino bisognava essere ciechi per non vederlo poi come se fosse stato disegnato secondo una forma perfetta ne vidi ancora un terzo e poi addirittura una fila uno accanto all'altro come umili viandanti con le testine vellutate che guizzavano tra le ombre delle frasche come i fiori e le farfalle anche i porcini ho sempre creduto siano stati concepiti come ornamento del bosco sue decorazioni e gioielli quando finì di raccoglierli tutti con il paniere ormai traboccante sentì a qualche metro di distanza due colpi secchi di fucile e qualche minuto dopo accade quel che temevo potesse accadere mi apparve un uomo in maniche di camicia una cartuccera sdentata la vita che veniva a passo svelto verso di me imbracciando una doppietta con le canne ancora calde che fai mi urla questi porcini sono miei non hai visto il paniere la giubba sarebbero stati tuoi porcini se tu li avessi colti e messi nel paniere risposi con fermezza giuridica e che vuol dire li ho visti per primo non vuol dire niente ma perché non li hai colti lo stavo per fare quando ho sentito la frullata di un fagiano non l'hai sentita le fucilate certo e il fagiano che fine ha fatto l'ho padellato disse l'uomo con il contorno di un bel moccolo ascoltami io non voglio litigare ma ti posso spiegare ma c'è poco da spiegare i funghi sono miei ti rispondo rigorosamente ma senza abusare di un rigore troppo logico parla chiaro ascoltami sei stato solo un ignorante o vada bene non ti voglio offendere ignorante solo perché ignori come stanno le cose in questo senso se tu avessi colto i funghi e li avessi posti dentro il tuo paniere da uomo di buonsenso quale io sono e del resto come dice la legge avrei potuto solo invidiarteli questi bei porcini ma non avrei potuto fare altro non avrei potuto prenderteli se li avesse presi ma sono un uomo onesto allora sarei stato un ladro e se poi tu mi avessi colto con le mani nel sacco avresti potuto anche denunciarmi e parliamo piano non facciamoci sentire dal fagiamo che potrebbe riderci sopra l'ho padellato quella bestiaccia è sempre meglio un presente che due futuri incerti mi ripeteva mio nonno volevi solo fare il furbo e chi vuol fare il furbo qualche pena la deve patire se tu fossi stato saggio avresti dovuto accontentarti dei funghi sei stato un ingordo egoista e il tuo egoismo ti ha portato la perdita di tutto e perché non ho preso bene la mira si giustificò il cacciatore fungaiolo sei stato un pessimo miratore e ora senza tirare in ballo padelle o cilecche altro non sei che un cacciatore padellatore e sai chi è rimasto felice della tua padella di non essere finito in padella e preda del suo predatore il fagiano io ben si intende per i funghi ricorda il detto chi ha tempo non aspetti tempo o chi troppo vuole nulla stringe ti prenderei a cazzotti bene non mi metti paura se vuoi anche una lezione fisica sono pronto a fare a botte a mani nude si intende finì lì nessuno di noi due alzò le mani contro l'altro e il racconto continua e vi lascio così con la curiosità se volete sapere come finisce me lo scriverete e vediamo un po se se ve lo continuo oppure no arrivederci e ci vediamo domani con una lettura al giorno e state pronti perché sto preparando delle sorprese e vediamo domani con un po se